siamo qui a conversano e siamo qui all'info point del moto guzzi my bike my ride con parte in moto e per tutta la giornata di oggi sabato ok uno arriva qui all'info point e praticamente può partire con le prove di quale moto c'è uno viene qua fa l'iscrizione dopo di che aspetta il proprio turno e si può partire volete salutare qualcuno are you from Canada oh so you want to say hello to your friends in Canada and where are you at the moment and you're just a better go off with a ride on a motorbike no I don't I don't you don't drive okay but if they come here they can enjoy the ride thank you very much bye bye